che cos'è l'amor? è la ramona che entra in campo è come una guaiassa colpo grosso te la muove te la squassa vinicio caposella caposella vinicio ho visto due concerti suoi grande grande artista sul palco un po' strumentista cantautore cantante sempre alla ricerca di nuovi nuovi strumenti nuove culture nuovi suoni nuove nuove storie il suo esordio lo fa con con questo album a luna e 35 circa nel 1990 e poi nel 91 esce con modi disco dedicato al grande artista amedeo modigliani e poi nel 94 camera sud dove c'è la famosa la famosa che cos'è l'amor che era anche la colonna sonora di un film nel 96 esce con il ballo di san vitro 2000 canzoni a manovella 2006 esce con ovunque porto pro peggi nel 2011 marina i profeti e balena nel 2012 repeptico ginnastas e nel 2019 ballate per uomini e bestie e comunque hai tutti i link dei vinili della sua discografia in descrizione puoi mettere un like se ti piace cliccando iscriverti e cliccando la campanellina potrai essere sempre aggiornato per ogni video che faccio grazie ciao alla prossima